buongiorno da questa oggi un po grigia campagna bavarese sono quasi per strada adesso sto facendo una passeggiata con rudi però oggi si va a stuttgart perché youtube mi ha invitato ad un evento un evento che vabbè per i tedeschi chiamiamo kaffee un kuchen e con altre persone che creano contenuti sulla loro piattaforma quindi è un piccolo onore perché è vero che non si è ancora ai livelli elisa true crime però insomma nel nostro piccolino piano piano ci si fa strada e vi porto con me a momento outfit eccoci qua ragazzi 20 gradi al 29 di ottobre sono quasi arrivati a stuttgart manca pochissimo ma volevo condividere questo cielo blu spettacolare visto che non c'è traffico meraviglioso c'è veramente un sole splendido siamo in centro a stoccarda e adesso mi avvio verso il posto dell'evento vediamo com'è ciao 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 piccolo momento di orgoglio da condividere 21.05 e ce l'ha fatta ad arrivare a casa la nostra eroe il viaggio d'andata benissimo il viaggio di ritorno benissimo se non fosse che gli ultimi 20 minuti sono stati un attimino avventurosi che c'è una nebbia e poi c'era la strada bloccata e poi sono finita nel cortile di una cascina dove questo gentile signore mi ha indicato una strada alternativa perché tutte le strade che venivano in qua erano bloccate per gli ultimi 11 chilometri perché c'erano lavori in corso perché no voglio dire quindi adesso sono stanchissima ma vi racconto dell'evento di oggi domani mattina che per voi sarà tra 3, 2, 1 buongiorno senza trucco e senza voce come si può ben vedere qua abbiamo un ospite d'onore ciao Rudy Rudy è anche ancora un po' stanco sono ancora a reduce dalla giornata incredibile di ieri e non riesco ancora a crederci che sia avvenuta veramente eravamo una quarantina di youtubers vi metto qua la foto guarda mi sposto così potete magari vedere se conoscete qualcun altro e c'era veramente di tutto persone che creavano contenuti di tipi diversissimi da chi aveva un canale con i cani un canale per riordinare quindi un po' tipo minimalismo come rendere la casa più abitabile meno piena chi fa video di pulizie quindi tips and tricks di come pulire cose e gamers un signore che si è reinventato durante la pandemia e siccome è un appassionato di lego ha iniziato a fare video con i lego con le costruzioni e adesso ha tipo 55 anni e vive di quello quindi la potenza dei social media che tante volte viene sottovalutata e poi veramente c'erano persone che facevano video su cose di high tech e un ragazzo che ha un canale tra i 100.000 e 200.000 iscritti e fa video ASMR con tutti i rumori che alcune persone trovano incredibilmente rilassanti a me fanno venire un po' la pelle d'oca ed è stato molto bello perché era veramente un mix colorato di persone con canali più piccoli del mio col canale simile al mio col canale molto più grosso del mio come avrete adesso immaginato visto che appunto ho nominato questo canale con 100-200.000 iscritti persone che creano contenuti anche da 10-14 anni per me è stato un onore grandissimo essere parte di questo meetup di questo evento a Stoccarda perché insomma io sono tra virgolette solo tre anni che creo i miei video sono partita da zero da sola cercando di informarmi sempre meglio di cercare consigli su come fare editing dei video eccetera quindi è stata una cosa molto bella perché c'erano una quarantina appunto di persone ma invitate in base a diciamo la loro personalità perché io sono rimasta un po' curiosa di questa cosa come mai ci sono creatori con canali molto piccoli e molto molto grandi e siamo tutti qui insieme una delle ragazze di YouTube mi ha detto che abbiamo selezionato le persone in base al diciamo al nostro feeling che avevamo la sensazione che potessero andare bene come dire insieme come gruppo e quindi diciamo appunto in base alla personalità perciò per me è stata veramente una cosa bella no ci si sente spesso meno rispetto agli altri e invece bisogna sempre un po' credere in se stessi ci si dimentica di questa cosa perlomeno parlo per me e tante volte magari uno pensa che solo la grandezza del canale conti e invece no dipende anche molto da come sei tu e da che argomento tratti perché c'erano persone che vivevano di social media e YouTube con 22.000 iscritti e persone che con 100.000 non vivevano di YouTube altri sì però dipende molto dalle tematiche anche che trattate se poi non so fate anche consulenze esterne se fate non so collaborazioni con marche e via dicendo insomma poi magari qualcuno mi dice eh ma vedi quel canale lì ha molti più iscritti di te sì può essere però ecco c'era una cosa molto importante secondo me che accomunava tutte queste persone ossia il fatto di creare qualcosa di positivo qualsiasi fosse la tematica che trattava il canale di questi altri YouTubers erano sempre delle tematiche per portare qualcosa di interessante di costruttivo allo spettatore no? a voi che siete al di là della telecamera e poi erano tutte persone molto semplici cioè non c'era nessuno che diceva ah sì io sono ho due milioni di iscritti no no erano tutte persone molto molto alla mano socievoli veramente è stato interessante insomma quindi ecco quando magari vedete persone che creano contenuti distruttivi invece che costruttivi sì troveranno sicuramente persone che li seguono però non è l'obiettivo no? YouTube vi vede e non è una cosa interessante per loro avere qualcuno che porta fuori un contenuto distruttivo chiamiamolo così ultima cosa prima di terminare vi faccio vedere la goodie bags finalmente da brava content creators ho i miei diciamo regalini di YouTube vabbè a parte la borsa di tela beh questo è il badge di ieri oh mamma creators collective poi abbiamo una borsina questa è carinissima fatta con salvagenti e insomma cose gonfiabili ritrovati in mare e riciclati per fare questi portamonete molto carucci poi eccoli qua Rudy non sei soddisfatto qua abbiamo un po' di adesivi creators collective vedremo un po' dove attaccarli mi sono preso un fazzolettino è rimasto tra le mie cose poi abbiamo signore e signori i calzettini è il simbolo di YouTube e last but not least il Forza 4 brandizzato di YouTube ragazzi che emozione voilà è bianco con i pallini rossi e neri poi da qualche parte c'è il logo ma adesso non saprei dirvi dove non lo sto a tirare fuori che mi partono pallini ovunque benissimo ragazzi io mi stavo per dimenticare di dire una cosa grazie anche a voi che seguite il canale perché è vero che io ci ho messo tanto impegno ci metto tanto impegno ma non andrei da nessuna parte senza le quasi 5.000 persone che siamo giusto? giusto sì dirglielo non dimentichiamoci quindi no seriamente grazie vero Rudy? cosa diciamo? grazie di cuore e spero che diventeremo molti molti di più nei prossimi mesi anni essere parte dell'evento di ieri è stata veramente una sorpresa molto piacevole spero che ce ne saranno altri nei prossimi mesi anni vedremo e se il video vi è piaciuto come sempre cosa diciamo Rudy? come sempre pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao